Volevano espellermi, sei mesi di sospensione. Anche a me sei mesi di sospensione. Ma, chi dice ma, qual contento non ha? Va piano questo treno, eh? Chi va piano, va sano e va lontano. Cos'è, sei giù? Eh sì, sono giù. Più lo mandi giù e più ti tira su. Eh no, scusi signora, lei dove va? A Milano. Ecco, dobbiamo stare insieme quattro ore. Se lei continua con queste strozzate, ci fa due palle così? Carfone.